Grazie Sebastiano, Presidente Zaia, gentili sindaci di Belluno, di Cortina, caro sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, Matteva tutta la nostra vicinanza, mia, del sistema Confindustria, di tutta Confindustria per la città che rappresenti, che è una delle dimensioni della bellezza e dell'equilibrio del Paese. Cara Loren, cari amici, voglio ripercorrere quello che ho ascoltato e che abbiamo visto insieme oggi, partendo dal primo video che è stato proiettato, un video non solo che ci riempie di emozione ma che ha dentro di sé quello che siamo. In quel video si vedono fabbriche e territorio ed è un elemento essenziale che è il filo rosso del discorso di oggi, di un'Italia e di un territorio, Belluno, in cui quando entra in gioco armonia, equilibrio, tecnologia, design, gusto, entra in gioco l'Italia. E il titolo di questa Assemblea dà già un'idea o un'immagine di ciò che siamo, di ciò che vogliamo essere, di come vogliamo procedere in un percorso di visione, di identità, di idea di futuro di Paese. Gioco di squadra, imprese, crescita, territorio. Ebbene, la Presidente Berton, nella sua relazione, a cui va da parte mia e di tutto il sistema Confindustria, ho un sentimento di riconoscenza e gratitudine per quanto stai facendo, sia a livello territoriale che a livello nazionale. Grazie. La presenza della LUIS oggi qui attraverso la Business School è un bellissimo messaggio che parte del nostro pensiero della LUIS e della stessa Confindustria, rendere centrale ogni territorio, includere, collegare territori e centro, avere un'idea di Paese, ridurre ed eliminare i divari tra territori. In una parola, recuperare senso e spirito di comunità, coesione che è culturale, oltre che di fatto nelle infrastrutture. Non escludere nessuno, lo ha richiamato molto bene la Presidente Berton, ne ha usato delle parole forti, importanti, nostalgia, speranza, rancore e fiducia. Ecco, questo è un punto di rimente della idea dell'inclusione, che significa non cavalcare anzi, ma avere una visione, un progetto, una condivisione, recuperare fiducia. In quella relazione c'è tutto ciò che siamo, amore per il Paese e passione per il lavoro. Solo così si trasforma la rabbia in passione. E allora Belluno diventa specchio del Paese, un Paese che ha bisogno di infrastrutture, che sono, attenzione, un'idea di società, perché collegano territori e includono persone, attivano cantieri, determinano occupazione. Ma la questione infrastrutture va inquadrata in due aspetti essenziali che sono emersi in occasione della tavola rotonda, risorse e questione temporale. Vedete, la storia del nostro Paese e noi ci insegna che siamo molto bravi come comunità Paese a reagire per traumi. Quando c'è un trauma fisico, quando c'è un trauma economico, il Paese si compatta. Come percepiamo una dimensione di rinormalizzazione, arretriamo sulla questione temporale. Vale quando lo spread aumenta e ci compattiamo, perché avvertiamo un'emergenza. Vale per la questione del Ponte Morandi a Genova, dove proprio con poteri in deroga riusciamo a realizzare e a ricostruire il ponte che diventa immagine del Paese in poco tempo. E allora, invece di riattendere emergenze, dovremmo lavorare sulle priorità e considerare la questione economica a partire dalle infrastrutture una grande priorità per il Paese, individuando le risorse già stanziate, determinando le opere infrastrutturali da realizzare, aprendo un fronte di confronto serrato in Europa in cui va bene il New Deal della Green Economy all'interno delle infrastrutture, ma a nostro avviso mille miliardi nei prossimi 10-20 anni significa spalmare l'effetto di quello invece che dovrebbe essere una grande operazione anticiclica in chiave economica. E ribaltare la questione. Avere mille miliardi in chiave europea da spendere subito e da pagare con strumenti finanziari in 20-30 anni. Questo è quello che dobbiamo fare. Non, come dire, usare quei mille miliardi in N anni che significa un effetto molto marginale nella economia europea. Ed è un aspetto importante che tra l'altro abbiamo condiviso con la Confindustria francese, tedesca, proprio a Roma, a dicembre dello scorso anno, in cui il messaggio era attenzione, la sfida è tra Europa e mondo esterno e la dotazione infrastrutturale, ne diventa un elemento essenziale. Ma ritorniamo alla chiave italiana. La questione temporale diventa di rimente ed è su questo che occorrerebbe lavorare, a nostro avviso, nei prossimi mesi per snellire le regole, individuare dei modelli con tutte, come dire, le correzioni possibili, ma che diano poteri ai sindaci, ai commissari, chiamiamoli come vogliamo, ma è un elemento di rimente. Il modello Genova, con le correzioni che indica anche la nostra associazione nazionale dei costruttori, attraverso appunto la idea della ricostruzione immediata del ponte Morandi, diventa un aspetto di regole che vanno verso la sensibilità della questione temporale, che nel Paese non abbiamo mai avuto. In quanto tempo facciamo le cose che diciamo? Che significa anche visione della politica, significa uscire dal presentismo e dalla tattica, significa uscire dalla dimensione di consenso immediato. Ed è per questo motivo che Confindustria dal 2016 ha indicato una strada attraverso l'idea di politica economica che però ha un'idea ancora più forte dietro di sé, che è un'idea di società. Nel 2016 abbiamo parlato di politiche dei fattori e non dei settori, non scegliere il settore del futuro, consapevoli che le medie dei settori non sono più significative, consapevoli che non esistono settori innovativi e non, ma imprese innovative non in settori maturi e non. Da quella idea di cui siamo stati i primi in Italia a parlarne è nata Industria 4.0, che non è altro che politica dei fattori. E poi a Verona, a febbraio del 2018, abbiamo aggiunto a quella idea la politica dei fini, che è dentro le parole della Presidente Bertone, cioè crescita e debito. Ma prima di parlare di crescita e debito il titolo delle Assise di Verona, proprio qui in Veneto, era lavoro, crescita e debito. Era l'idea della politica dei fini, darsi un grande obiettivo Paese. Il lavoro, l'incremento dell'occupazione, attraverso più crescita e meno debito pubblico. Crescita diventava una precondizione, non una mission. Il debito pubblico da ridurre altrettanto. La mission era il lavoro. Ritornare ai fondamentali del Paese, per una società che debba avere dentro di sé l'idea della coesione. E questa idea è parte della storia del nostro Paese, non è una novità. E che è stato oggetto di distrazione. Il termine lavoro non si sente da tanto. E nei contratti di governo e nei dibattiti pubblici. Eppure il primo articolo della nostra Costituzione ci ricorda che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Il lavoro era ed è il fattore di coesione del Paese. E lo cito spesso, l'ho detto anche stamane, in occasione della inaugurazione del Lab con la Business Court della LUIS, un presidente di Confindustria negli anni 50 e un segretario generale della CGL, Di Vittorio, il presidente di Confindustria della Costa, coniarono una frase insieme. In quegli anni occorreva ricostruire il Paese. La frase era prima le fabbriche e poi le case. Prima le fabbriche, perché le fabbriche erano e sono il luogo del lavoro. Oggi potremmo dire le imprese, in un concetto largo di industria, manifatturiera, dei servizi, delle costruzioni, del turismo, della logistica, della cultura, dei servizi. Ma il concetto è lo stesso. Ritornare a dare forza al lavoro attraverso i luoghi del lavoro. Questo riporta una questione importante, che è l'unica grande questione nazionale per noi, perché non abbiamo un'idea divisiva del Paese. E la questione nazionale per noi si chiama questione industriale, che attenzione non è la questione degli industriali. È la grande questione di un Paese come il nostro, seconda manifattura d'Europa. È la grande questione di un Paese come il nostro, che non avendo materie prime e fonti energetiche, deve la sua forza all'industria italiana. Un Paese che esporta oltre 500 miliardi di euro, di cui 450 vengono dall'industria manifatturiera e di questi 250 dal mercato europeo. Per questo è una questione di interesse nazionale. Avere a cuore l'Europa, se la guardassimo solo dal punto di vista economico, ma non è solo questo. Per questo ci sentiamo cittadini europei di nazionalità italiana, insieme, guarda caso, alla Confindustria tedesca e francese. Prima manifattura d'Europa, i tedeschi, seconda manifattura d'Europa, noi, italiani, terza manifattura d'Europa, i francesi. E allora ritornare a questo percorso ci ricorda cosa? Confindustria in questi anni è diventata, negli anni è diventata. A Torino, sabato prossimo, festeggeremo i 110 anni di Confindustria. E ripercorrendo la storia della nostra Confederazione si ritrovano dei grandi valori che vengono attualizzati da ciascun Presidente, che è discontinuo nel suo stile, ognuno ha il suo stile di presente, ma continua su quei valori. Quei valori che hanno trasformato da molti anni un corpo intermedio dello Stato, qual è Confindustria, non solo nell'essere un sindacato d'impresa, cosa che è, ma anche un attore sociale. Cioè essere ponte tra gli interessi delle imprese e gli interessi del Paese. Quell'idea molto forte, anch'essa richiamata dalla Costituzione, che richiama le parti politiche, le rappresentanze politiche, le rappresentanze sociali, le rappresentanze politiche sono i partiti, le rappresentanze sociali sono appunto i corpi intermedi dello Stato, tra cui noi, parte della democrazia di un Paese, parte del confronto di un Paese, della sintesi, del dialogo, del dibattito. E allora dobbiamo avere chiaro davanti a noi con chi abbiamo da affrontare le sfide, con la Cina, che attraverso le infrastrutture, guarda caso, le rotte della seta, vorrebbe diventare la più grande manifattura del mondo. La Cina pone la questione industriale al centro della sua politica economica e nazionale. Dall'altra parte, gli Stati Uniti d'America, che attraverso i Dazi vorrebbero difendere la propria industria e attraverso il Reshoring USA vorrebbero riattrarre investimenti, industrie nel proprio Paese. E qui già abbiamo chiara la sfida, in cui serve più Europa, non meno Europa, perché gli accordi tra Cina e Stati Uniti d'America possono depotenziare la forza dell'Europa. E' un'Europa non unita, perde potere contrattuale nel gioco di questi grandi giganti. E in questa Europa la questione industriale è determinante. E in questa questione industriale l'Italia ha un interesse forte a giocare una grande partita, essendo la seconda manifattura d'Europa. Nonostante i deficit di competitività del Paese, che ci ricorda, guardando in positivo, cosa potremmo essere se rimuovessimo parte dei deficit di competitività e, se ci consentite, cosa siamo. Perché sfideremmo qualsiasi Paese a fare secondo con i deficit di competitività dell'Italia, i tempi della giustizia, la dotazione infrastrutturale, le tasse più alte rispetto a imprese tedesche. Eppure siamo la seconda manifattura d'Europa. Questo significa che le imprenditrici, gli imprenditori, i lavoratori, le lavoratrici italiane sono i primi al mondo e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Facendo un controracconto del Paese. A volte si dimentica che dietro a un'impresa di successo, sia essa piccola, media o grande, ci sono sacrifici, impegni, rinuncia. Sembra quasi che invece qualcuno abbia vinto la lotteria e non si capisce cosa c'è dietro. Ritornare ai sacrifici, all'impegno, alla cultura del lavoro è un elemento essenziale. Nella pedagogia formativa di un'Italia che deve recuperare lucidità. Le sfide sono con la Cina, con gli Stati Uniti, ma quali sfide abbiamo in Europa e in Italia? Ridurre i divari tra territori, persone e imprese e includere giovani. E questo possiamo farlo su tre assi, che dovrebbero essere le grandi priorità del Paese. Infrastrutture, affrontando la questione risorse temporale, formazione, scuola, università, istituti tecnici specializzati, alternanza scuola-lavoro. Un dato che deve farci riflettere seriamente. Dai nostri istituti tecnici specializzati ogni anno escono 8.000 studenti, in Germania 800.000. Noi, con questo gap, non solo corriamo il rischio di non mantenere la posizione di seconda manifattura d'Europa, ma di non garantire il futuro ai nostri giovani, di cui si parla molto. Ma in realtà poi alla fine il dibattito ritorna sulle pensioni, con un'assenza di equità generazionale, senza precedenti, in questo Paese. Ed è paradossale che Confindustria debba porre la questione infrastrutturale e la inclusione giovani con un'idea di società. Ma questo ci ha reso credibili, questo ci ha reso attori sociali. Perché non chiediamo direttamente questioni per la nostra categoria? Vorremmo che le nostre imprese diventassero competitive anche al di fuori dei propri cancelli. E questo lo si fa con una dotazione infrastrutturale. Ma vorremmo che si investa sul futuro, sui nostri giovani, a partire appunto dalla formazione. La formazione è l'esempio di oggi, di stamane, qui con l'Hub della Business School a Belluno. Ringraziamo il Comune di Belluno, Confindustria Belluno Dolomiti, per questa grande convergenza che dice inclusione, attrattività del territorio per le imprese, per i propri collaboratori. Inclusione per i giovani. La scelta del luogo diventa un valore. Stare vicino ai territori, agevolarne la crescita, includerli all'interno di un progetto, non escludere, essere parte di un progetto e non solo i primi della classe rivendicando di esserli, prescindendo dagli altri. Grazie alla Business School e ringrazio il Presidente Abete, ringrazio il Direttore Boccardelli, il Direttore Lostort, il Rettore Principe, tutti qui oggi a dimostrare quanto ci crediamo alle cose che facciamo. La presenza del Lab diventa un contributo al recupero di competenze nel Paese, del merito e del linguaggio. Attenzione, del linguaggio. Francesco Morace ha parlato di parole. Un linguaggio fatto di confronto serrato, ma di rispetto dell'altro. Una capacità di dialogo, una volontà di ricercare la soluzione. Francesco Morace nel suo intervento richiama un aspetto importante, e cioè la visione di bellezza ed equilibrio, che quando entra in gioco entra in gioco l'Italia. Vedete, i mercati globali sono mercati di nicchia, i mercati di nicchia sono mercati per noi italiani. Parole, linguaggio, un linguaggio che è stato imbastardito anche dai tweet, dalla semplificazione, dal fatto che si confonde la durezza con la soluzione. Basta un tweet, basta mandare a quel Paese l'altro e diventi un leader. Ma noi non siamo così. Divendichiamo la nostra diversità. Abbiamo senso e spirito di comunità e rispetto dell'altro. E accanto a quelle parole, a quel linguaggio che ricorda Morace ha usato un termine che è sogno. E qui c'è il punto. C'è un punto essenziale che riguarda questa terra, questo territorio. Le Olimpiadi sono un caso di paradigma di pensiero che deve essere un progetto per il Paese. Dobbiamo ricominciare a pensare alla grande. Dobbiamo costruire, immaginare, sognare, sperare una nuova frontiera. È la forza di Confindustria. Dietro il nostro pensiero economico c'è una chiara idea di società. Dietro l'idea delle le Olimpiadi. C'è l'inizio di un sogno, una speranza che crea fiducia, non genera ansie. C'è la centralità di un'idea in cui la comunità converge. C'è un Paese che vuole reagire, che ha bisogno di sogno e speranza. Il nostro Presidente della Repubblica Mattarella per la seconda volta quest'anno ha richiamato questi termini. L'anno scorso, rivolgendosi a noi italiani, ci ha ricordato che termini come sogno e speranza non vanno confinati alla sola stagione dell'infanzia. Lo stesso Governatore Draghi, nella sua ultima relazione da Governatore della Banca d'Italia, prima di andare alla BCE, nella ultima parte mi colpì un aspetto in cui disse che dovevamo combattere uno dei mali dell'economia. E chi chiaramente ha idea di quella che è la macroeconomia, di quella che è la vita aziendale, pensa sempre a cose tra virgolette tangibili. Lui parlò invece di un male che si chiama ansietà. L'ansietà. Combattere l'ansietà significa combattere i mali del Paese, i mali dell'economia, ma l'ansietà la si combatte con la visione, con il progetto, che diventa poi fiducia. E allora, nell'ultima assemblea dell'anno scorso, maggio 2019, abbiamo proiettato un video in cui volevamo appunto dire la nostra idea d'Italia tra 20 anni, la visione, il futuro. E abbiamo usato una frase tratta dal Talmud che dice non vediamo le cose come sono, le vediamo come siamo. Ecco, io, come dire, sono state dette tante cose su di noi, su Confindustria, sui nostri potenziali candidati, tutte figure di alto profilo, vorrei esprimere come io vedo ed ho visto i miei colleghi in questi anni in cui ho girato l'Italia per rispetto ai territori, per l'obbligo e la responsabilità del Presidente di Confindustria di ascoltare le relazioni dei nostri Presidenti, per portare a sintesi di rappresentanza il pensiero di Confindustria che è emerso dentro di noi e che ho cercato di rappresentare con modestia, umiltà, impegno, dignità. E allora io non conosco piccoli, medi e grandi imprenditori, ma io in questi anni ho incrociato solo grandi imprenditrici e imprenditori di piccole, medie e grandi imprese. Questo siamo noi, una grande comunità. E poi il secondo video, bellezza, racconto, che ci invita a non appiattirci sul presente, a fare i conti con le nostre potenzialità. Siamo uno dei pochi paesi al mondo che ha una percezione di sé peggiore di come il mondo ce l'ha di noi. Siamo stati talmente capaci di appiattirci sulle criticità, di non avere più la capacità non solo della visione. Fa bene Alessandro Benettona a ricordare l'inizio della idea delle Olimpiadi, l'idea dell'assofazione. È inutile farlo, tanto perderemo. È inutile cominciare, è inutile partire, tanto perderemo. Quella si chiama assofazione, che va oltre l'ansietà. Quando una comunità arriva all'assofazione, è inutile che facciamo, tanto non cambia niente, è l'inizio del declino e noi non possiamo e non dobbiamo permettercelo. Fare i conti con le nostre potenzialità. In quel bellissimo video e nella parte finale di quel video, quando vinciamo, quando Malagò, quando tutti gli altri si alzano ad applaudire, perché appunto si cita il vincitore delle Olimpiadi. Milano e Cortina ci dice che quando l'Italia fa l'Italia ed è unita, vince su tutti. Questo è un elemento essenziale, che va contro il disfattismo, l'ansietà e l'assofazione, che è progetto, visione, unità di intenti, fiducia e futuro. Quel futuro che è dentro di noi e che vedremo solo domani, ma che non ci stancheremo mai di raccontare in questo presente. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.